ciao amici buon inizio di settimana a tutti questa è la settimana che ci porterà a sapere dopo domani quando la data che farà riaprire poi i battenti alla serie a però ormai anche sentendo le parole del ministro dello sport spadafora dubbi in tal senso non ce ne sono più ovvero manca solamente la data di inizio e dopodiché anche il nostro calcio avrà quindi una fase di ripartenza ufficiale e dopodiché poi vedremo il prosieguo di questa maledetta pandemia se consentirà al calcio italiano come tutti ci auguriamo di poter concludere queste competizioni così come poi a margine ci sarà anche la champions league quindi si entra nel vivo con alcune 12 partite di campionato a disputare potenzialmente altre due di coppa italia e poi il ritorno contro lione per quanto concerne gli ottavi dell'europa che conta parliamo però di mercato parliamo un po di mercato perché è necessario perché sebbene comunque la concentrazione si sia spostando a livello di rettangolo di gioco le strategie la fanno la padrona la fanno la padrona considerando anche come ci sia da chiudere in migliore dei modi il bilancio quindi per arrivare al 30 giugno con un quadro diciamo anche dal punto di vista finanziario abbastanza eroso e quindi si sta anche per proiettarsi un dentro fuori con artur perché resta lui resta il brasiliano la chiave del discorso con il barcellona sebbene blograna comunque stimino pianici a tal punto da voler studiare un'operazione che non contempla esclusivamente necessariamente artur però la linea della juventus come vi ho raccontato proprio qua su youtube nei giorni scorsi rimane la stessa noi vi diamo pianici se in cambio ci prendiamo altro quindi in atto un tentativo di convincimento da parte juventus sul diretto interessato ma ad oggi non c'è ancora stato un'apertura non è ancora arrivato un ok e non è detto che questa apertura arriverà così come arriverà ok tutto un molto work in progress se non che la mamma di arturi ieri intervenendo sui social network su twitter nel dettaglio ha risposto chiaramente a chi indicava una possibile apertura di artur la juve in questione dicendo lui è molto felice al barcellona quindi dopo l'esposizione mediatica di artur nelle scorse settimane e dopo quella anche dei suoi familiari è chiaro che non stiamo parlando di un quadro eroso per la juve di certo guai a dare qualcosa per scontato soprattutto nel mercato che ve lo dico sempre è una materia molto volubile quello che oggi è nero domani può diventare magicamente bianco però mi aspetto quindi che questa settimana sul fronte barcellona porti a qualche indizio non dico definitivo ma qualche traccia un po più concreta anche per capire poi il futuro dello stesso pianic che resta un giocatore di livello adesso un giocatore molto ambito anche a livello di top club internazionali e che quindi qualora juventus dovesse accelerare per cambiare diciamo ricostruire il centrocampo beh pianici potrebbe diventare anche una pedina per altre situazioni quindi per arrivare ad altri obiettivi discorso prematuro questo in quanto quello più caldo resta l'asse col barcellona ma è artur rappresenta non dico una condizione qua no ma sicuramente per il momento una chiave primaria e quindi alla juve si attendono una risposta definitiva è chiaro che c'è ancora tanto tempo perché è vero che stiamo parlando ormai di fine maggio però poi come dicevamo prima c'è anche tutto un campionato da da terminare un terzo di stagione sostanzialmente tra tutte le competizioni però è normale è normale che avendo avviato un discorso non si voglia portarlo per le lunghe perché ovviamente poi quando una cosa va molto per le lunghe quando non c'è una disponibilità e quando si entra nel forzare o meno la volontà di un calciatore non è mai cosa buona e giusta quindi settimana importante decisiva fondamentale per il calcio italiano ma anche forse per iniziare a comprendere un pochettino quali saranno le strategie vere concrete al 101% di una juventus che si affaccerà al prossimo mercato con le idee molto chiare ovvero innalzare il tasso qualitativo del centrocampo cambiando un pochettino le caratteristiche dello stesso tagliando magari qualche ingaggio un po' troppo corposo e non di primo piano quindi inserimenti mirati e di qualità fatemi sapere come cosa ne pensate fatemi sapere come pensate che finirà la vicenda Arthur Juve e se siete tifosi a juventus iscrivetevi al mio canale youtube mettete like a mio video un abbraccio e buona settimana a tutti un abbraccio e buona settimana a tutti